È un tema caldissimo, prevenire e contrastare la violenza sui minorenni in ambito sportivo. Presentato e sottoscritto l'accordo Facciamo un Patto, una vera e propria sinergia tra istituzioni, non profit, società sportive. Un accordo di rete realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetto di cui l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara è ente capofila. Tra i vari firmatari è anche il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, il gruppo antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara, il CONI Abruzzo e l'assessorato alla salute e alle politiche della famiglia della Regione Abruzzo. La coordinatrice del progetto, Maria Cristina Verrocchio, e la presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, tanti soggetti in campo per centrare questo obiettivo, direi ambizioso, no? Molto ambizioso, ma devo dire che proprio oggi celebriamo il primo obiettivo concreto raggiunto con la firma di questo accordo di rete, perché mette insieme, addirittura in maniera originale rispetto ad altri progetti nazionali, anche la magistratura. CONI Abruzzo davvero ci sta dando una grossa mano. Un'altra strategia utilizzata dall'Università d'Annunzio è stata quella di lavorare per tutto il progetto insieme a due associazioni del territorio che da tempo si occupano di tutela dei minori, quindi parliamo dell'associazione Maria Regina Focolare Onlus e dell'associazione Angelo Custode. Fondamentale in questo senso anche il coinvolgimento direi dei genitori. Esattamente, il nostro progetto infatti prevede azioni dirette allo staff delle società sportive e poi prevediamo interventi di sensibilizzazione proprio con le famiglie degli atleti e forse la cosa più simulante per noi è che lavoreremo direttamente con giovani atleti della fascia d'età tra i 10 e i 16 anni coinvolgendoli attivamente, perché anche loro devono diventare protagonisti nella loro tutela. Diciamo che il primo passaggio fondamentale è quello di aver immaginato di mettere insieme tanti attori che possano ognuno per la sua parte arricchire il punto di vista e immaginare azioni concrete in favore dei minori anche per diffondere una cultura che è ancora lenta a nascere, molto spesso è un ambito nel quale non si percepisce come abuso un comportamento che per prassi è consolidato. Soprattutto è fondamentale creare l'ambiente giusto. Assolutamente sì, creare l'ambiente giusto, diffondere i prassi virtuosi che ci sono, correggere quelle più o meno consapevoli.